Voglio ringraziare i colleghi per il loro intervento precedente e naturalmente li ringrazio anche per l'attenzione con cui hanno valutato il testo e naturalmente quello che dirò non è assolutamente un giudizio di valore ma contestualizzato all'interno del testo che stiamo discutendo. Quindi capisco senz'altro l'intento del consigliere De Priamo e degli altri colleghi sottoscrittori questo emendamento però visto che si tratta di un regolamento che vuole dettagliare in maniera rigorosa le modalità e le fattispecie con cui poi dovranno essere conferiti questi riconoscimenti è bene che venga lasciato il testo così com'è in originale proprio per evitare ogni discrezionalità e genericità. Quindi il voto sarà contrario.